Approccio digitale, su siti e app ci sono solo donne brutte e detto molto francamente ogni tanto le ragazze più fighe mi escono da digitale non sto dicendo che sia possibile per tutti perché per alcuni potrebbe esserci un problema legato al fatto che sono abbastanza attraente o meno tutti possono sicuramente avere dei risultati però online quanto sia attraenti conta di più che dalle altre parti perché il primo criterio che hanno per giudicarvi la foto poi di questo ne parliamo in dettaglio ma questa è la realtà dei fatti questi siti app non funzionano questa è la verità di questi siti app funzioneranno diversamente per ognuno di voi e per quanto create bene il vostro profilo le vostre immagini, il vostro livello estetico di partenza eccetera 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 però chiunque può ottenere i risultati varieranno di molto in base alla persona questa è la realtà delle app di incontri siti app è una cazzata da utilizzarli ma non tutti possiamo avere gli stessi risultati ve lo dico in maniera molto franca e diretta questi siti sono una truffa se voi pagate questi siti ma non sapete quello che state facendo molto probabilmente diventa una truffa truffa per modo di dire nel senso che non vi stanno storcendo i soldi però diventa una truffa perché voi non riuscite a ottenere risultati e poi se non sono bello non posso questo è vero o non è vero ragazzi nel senso che online e questo è vero per tutti eccezione fatta per qualche caso particolare in cui tramite super approccio di massa beccate qualche perla il livello si abbassa rispetto a quello che riuscite a beccare durante il giorno durante la notte eccetera eccetera e questa è la realtà dei fatti però relativamente se sono bello non posso o meglio se non sono bello non posso non è realmente così che stanno le cose ma dovete avere delle aspettative realistiche relativamente alla notte al digitale perché sono così tanto bombardate che persino col miglior modo di operare possibile comunque avete una costante competizione che combatte, combatte, combatte contro di voi quindi è giusto che voi in tutta la situazione ma soprattutto nel digitale abbiate aspettative realistiche se questo video ti è piaciuto ti ricordo tre cose al volo uno iscriviti al mio canale Telegrangio di Lorenzo dove ti do informazioni che qui su YouTube non posso darti il link per iscriverti è gratuito e lo trovi in descrizione due in descrizione trovi anche i links a tutti o quasi i miei corsi dove ti spiego passo passo come imparare la seduzione con sistemi step by step e tre purtroppo hai i links in descrizione non trovi tutti i corsi alcuni te li proponiamo solo se ti iscrivi alla newsletter e rimani qui solo un secondo perché ti sto per spiegare come fare hey non sei ancora andato a vedere il video dove ti mostro come prendo 18 appuntamenti in soli due giorni online che cazzo stai aspettando vai a vederlo subito clicca in alto a destra e ci vediamo all'interno del video che cazzo stai aspettando che cazzo stai aspettando